La vita cristiana è semplice, non sono necessarie cose strane o difficili. Basta mettere Gesù al centro delle nostre scelte quotidiane e per questo lo Spirito Santo deve svegliare in noi la voglia di conoscere, adorare e seguire Gesù. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa con la quale oggi, inizio del Tempio Ordinario, ha ripreso le celebrazioni a casa Santa Marta. Per conoscere Gesù, ha ricordato il Papa, prendiamo il Vangelo tutti i giorni, anche un piccolo passo. Per adorarlo, togliamo dal nostro cuore le altre cose che adoriamo, che ci interessano di più e facciamo la preghiera di adorazione in silenzio. E infine, per seguirlo, chiediamogli ogni giorno dopo aver letto il Vangelo, Signore, cosa vuoi che io faccia? Indicami il cammino. E questo è il centro della nostra vita, Gesù Cristo. Gesù Cristo che si manifesta, si fa vedere. E noi siamo invitati a conoscerlo, più a riconoscerlo nella vita, nelle tante circostanze della vita, riconoscere Gesù, conoscere Gesù. Ma io, Padre, io conosco la vita di quel santo, di quella santa, o anche le apparizioni di quella di là e di là. Ma questo è bene, i santi sono grandi. Le apparizioni non tutte sono vere. I santi sono importanti. Ma il centro è Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo non ci sono i santi. E qui la domanda, no? Il centro della mia vita è Gesù Cristo. Qual è il mio rapporto con Gesù Cristo?